Da monti misteriosi e schifosi, arrivano i Mostrozzi. Sono disgustosi e rumorosi. Che sound, King Fetanzo? Senti come suona Ned Turbino. Matta igienica e Sturacesco. Vinceranno contro King Lartness. Collezionali tutti. Interagisci con l'incredibile app Mostrozzi e fai sfidare e rumoreggiare i tuoi Mostrozzi preferiti. Mostrozzi. Brutti and co. In edicola da Jedis. Grazie a tutti.